Ciao, come ti chiami? Riccantele Cosa fai nella vita? Oh, nella vita faccio il gommista Nella vita vera? Nella vita vera invece Conduco con mia moglie un centro di cavalli a Ponteo Rovero Frazione Cambelli 41 Ecco però, taglia questa parte Questo lo devi tagliare Ok Pubblicità fullback Questo sta bene Finito dalla legge Ok Via telecamera qualcosa di te Tipo qual è il toro più Cazzato che hai montato Perché fai il full riding? Ah ok Adesso parlando seriamente La monta più bella che ho fatto è su un toro che si chiamava Macho Che praticamente sono riuscito a montarlo dopo 8 anni Quando questo toro è stato ritirato dai rodelli Sono riuscito a fare 8 secondi Bene grazie 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 Stop Stop